E' una brutta abitudine purtroppo Provate mapgame.net, un gioco online simpatico secondo me The game mi dispiace, mi dispiace per tutte le persone in live al contempo Ragazzi comunque ora ci facciamo un bel po' di chilling, di gioco, di gioco nel chilling E andiamo a una storia vincente Non so se mi sento nella situazione di potervi raccontare delle storie vincenti So solo che volevo cercare Spotify per mettere la cazzo di musica di sottofondo E ho scritto Spotify e me l'ha cercato da tutte le parti Andagli con chill, sì ho visto questo gioco Su Steam sempre che è dove trovo i giochi da portare in live E ho detto Interesting, interesting E' veramente un gioco di interest It sparks my interest E quindi io ho detto Ma sai che ti dico Ma chilliamo c'era in questo pazzesco gioco Oh grazie Poldo Grazie Poldo per il ride Per il ride Grazie mille Poldo Grazie mille Poldo E ora noi ce la chilliamo Qua basta Questo è quello che dovremmo fare Chillare E basta Ora vado però Grazie Sadia per il ride Ad abbassare il volume Grazie mille Ok 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 vediamo un po' com'è questo No raga non calcio il gatto Evito che mi morda le caviglie porca puttana Grafica ok Ok ultra alto Vediamo quanto fa cagare questo gioco Sai cos'è bellissimo il mio amore per te Secondo me un po' fa cagare ti dirò lo sai? Secondo me fa abbastanza cagare questo gioco Perché dovrebbe far cagare? Perché francese a caso Oddio no è francese No perché noi dobbiamo giocare per restaurare dei monumenti Ed essendo il gioco ancora in alfa In realtà si parte con dei monumenti che non sono Cioè dobbiamo rifare Notre Dame Eh ok Beh è un bel monumento Notre Dame No sì Non ti piace? Non lo so in che punto lo metteresti della tua classifica di monumenti 10 Valido Benvenuto nel mondo Mi condivido lo schermo per favore Oh sì Grazie mille I'm very 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 sorry Grazie per lo schermo con di vis Così posso vedere un po' Prego prego Vai alla schiena al centro della stanza Usi il tasso sinistra e il mosso per prendere gli occhiali AR Ciao mi chiamo Alice Ah Quindi ci dobbiamo mettere gli occhiali AR Per giocare lì AR Si può basare un po' di una musica Ma assolutamente sì signori Ma non c'è neanche da chiedere Monument flipper Non c'è neanche da chiedere Sono come un monument flipper O qualcosa Ok quindi M Si è ancora al menu R Contiene informazioni Si me ne hai fottu un cazzo No si dice Ma l'ha educata ma no Ancora meno R Ok Vabbè c'è il cao di rivelle Che paura Non farlo mai più Perché dice c'è sta faccia giga scazzata Magari se lui mi metto a piangere Si Oh my god I like Tutorial Clicca un qualsiasi documento Clicca a parte stante i documenti Ok sì sì Vai comincia Non me l'ho fatto un cazzo Non ho letto nulla Oh no No mi fottu una minchia Il gioco cerca di spiegarti delle cose No sono estremamente arrabbiata Perché sei arrabbiata? Dove? Cosa merda è questa cosa? È orrendo Stava flippando i monumenti My friends This is not a great monument Vabbè O mette a voi Osserva la casa B Yoinked Mine now Vai Osserva Ma sto osservando E cazzo vuoi Dove devo andare a osservarla? Su Amundagna Su Among Us Oh sì Non mi fa fare il parkour Devo fare la strada per caso? Non mi fa fare la strada Devo andare via Possibile senzionare l'obiettivo in corso Aprendo il menu Di qua non mi fa andare Devo osservare Devo stare andando a fa cagare È single play Sì è Shrek È Shrek New game Unreleased PvP only Shrek Osserva 39 metri Io non ti posso osservare Non può essere veramente questo Non può essere veramente questo E questo è il gioco che hai scelto Totta Wait my friend I'm sorry Magari ho qualcosa dentro la mia borsetta E invece non ho un cazzo di nulla amico Amico non ho un cazzo di nulla Forse veramente dovevo leggere quei documenti Che mi hai dato la bro Borgo vecchio Allora Borgo Documento vecchio insediamento nel sud della Francia Lavoro di conservazione Ok No ma ancora non mi dice come fare Osserva meglio Ragazzi procederò ad osservare Ma perché secondo me sapete cosa dovete fare Dovete osservare pure voi Osservate fortissimo È tipo quando Goku ti chiede di mettere le mani al cielo È vero Questo devi mettere le mani Sta cosa qui osservare Sposta le travi Aaaaaaah I see I now have hands Are you moving the The travis Travis Scott As one might say Asha Con un martello Non con la torcia Credo Non con la torcia Peccato Borgo bislacco È un'interessante informazione Quella data da te ora Sposta le travi vicine Ok Oh my god Like I don't know Wow It's like So good Io non capisco Ok Ok Ora Cos'è Cosa devi fare con quella roba Hai idea Di cosa devi fare Clicca la scheda evidenziata E clicca anche una volta Per arrivare alla ristrutturazione Quale cazzo è quella evidenziata Shit my friend Absolute shit Nooo Allora Mi sto arrabbiando Non ti arrabbiare Eh no mi sto un pochino arrabbiando Devo ammettere Non ti arrabbiare Per favore Non è carino Non è molto Very cash money Da parte tua Gli oggetti portati Li possono essere Oh Cos'è qua sotto Cos'è questo Un barile Spaccalo Spaccalo fortissimo Oh vieni qua Oh Ah Detengo un barile Ok Riempilo di Baccini Io lo butto contro di qua Per farmi aprire Ah Dici No Non mi sembra Non mi sembrava Una cosa molto È stato veramente anticlimatica Che merda Ma come che merda It's not this that I wanted This is not what I want This is not what I want Ah ah That's my shit All the girls Allora questa è l'unica dove possiamo entrare Quindi entriamo qua E rompiamo tutto Ma Questo non c'era prima Mi confermi Cos'è sta salita Una salita Ok sono qua E qua O posso osservare meglio la casa Sai cosa dovresti osservare meglio? Le mie palle Non mi piace quando ti comporti così con me Sono stato un po' maleducato Guarda Eh sì Leggermente Non eccessivamente però Quel poco che Oh oh Nulla Vuoto 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 Allora se io però Non c'è una crafting table Vuoi fare i picconi di diamante Per andare avanti No perché se io avessi la possibilità Sì Di darmi un bacione Grosso Ti mancano tre pezzi Ma? È così? Ti mancano sette pezzi Due pezzi Di questo due pezzi mancano Ma non mi vuole dire quali sono? No Ma che senso mi raga troppo il pc? Perché? Ma non sta raggando A me non pare I wanna die I wanna die Che succede tot? Non so cosa fare Sono così In difficoltà Meno male che è il tutorial Nel video va tutto a scatti Amo ma se va a scatti solo a te Oserei dire che Potrebbe non essere la mia cosa Io riscio Oh Ok Hai un barile Stiamo aggiungendo a qualcosa? Sì Col barile Faccio il parkour Parkour Oh mio dio No Non posso compiere l'estremo atto del parkour E non posso compiere nulla Cioè questo Questo gioco fa Il reso più rapido Della storia E dei resi Dei bellissimi ragazzi Posso essere Il gioco del più più Era molto più bello Questa scheda Sono gli oggetti spiubi sulla mappa Clicca la scheda di insieme Clicca ancora una volta Per avviare la ristrutturazione Dove sono questi oggetti sulla mappa? Cliccherò tutto Cliccherò tutto con le mie manine Qua Qua non c'è nulla Non c'è nulla che io possa toccare Non c'è nulla Beh io vedo qualcosa Che potresti toccare Cos'altro posso fare? Faccio Così E prendo Una scopa Pulisco Scalpello Martello Ascio Ascio? Cioè sto tenendo dei pezzi Facendo questa cosa Non capisco È in alto a destra Mi dice di osservare Osservo? Sto osservando ma Non mi pare Non bene Mi sento di dire una cosa Fa cagare? È uno dei momenti in cui devo mettere la lingua in inglese Perché secondo me l'hanno tradotto male No è proprio observe Totta ha ricevuto lo serve No è proprio observe È proprio observe ragazzi Va al gioco? Posso? Devo essere una Eh But your big mama is a renovation table window Your big big mama Oh yeah big mama Che cosa possiamo fare è salire qua sopra E questo ci porta da qualche parte? No Però magari serve meglio Stai osservando meglio? Perché spostare tra i vicini in italiano? Hai ricevuto il grande meme Spostare travi Come l'hai sposto? Come l'hai sposto? Come le sposto? Come le prendo? Come le clicci faccio? Che ci faccio? Alt F4 Chatting È andata così È andata così Steam Apri Steam No 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 Apri Steam Apri Steam Live Apri Steam Apri Steam Apri Steam Monument flippers Informazioni Assistenza Sono deluso Sono deluso Vorrei chiedere un rimborso Spiegaci il motivo Non funziona Il gioco è diverso da come viene mostrato nei video Non funziona Invia richiesta Invia richiesta No Abbiamo ricevuto la tua richiesta di rimborso e ti ringrazio perciò Grazie Rimuovi Libreria Libreria Che altro gioco abbiamo giocato stasera? Friends Versus Friends In realtà quel gioco devo ammettere che un po' mi ha divertito A me tantissimo Mi è piaciuto un botto Ma sai perché eravamo forti in culo? Perché? Perché siamo forti in culo No Dimmi su cosa ti stai fissando Dimmi Dimmi a cosa stavi giocando No non stavo giocando a niente Stavo assolutamente guardando in maniera claustrofobica I miei analytics del video Bertra? Dimmi No Not now Hai ragione Ci sono momenti e momenti per essere depressi Non questo Please No no non ero depresso Ero solo curioso Ma ora alle 22.14 la tua curiosità speaks Spikes Speaks Speaks Quindi giochiamo a Friends vs Friends contro la gente online No volevo dirti perché noi siamo forti a giocare a Friends vs Friends Perché ci vogliamo bene Amo Crab Champions Amo è Crab Champions quel trovo Amo è Crab Champions e noi abbiamo un quantitativo di tempo su Crab Champions Vuoi fare una partita? Sì Ok Sì Ok Vai Sto prendendo Ok va bene Mr. Crab's Rules Rule L'hai appena scoperto Vi prego no tigre Non è un Non è una democrazia questo Questo è Crab Champions e basta E questa del city Madonna quanto amo questo gioco Metti in pausa la musica perché ci sono cose che hanno delle musiche migliori Posso rimettere noi Trasforma Ci entra orizzontalmente Perfetti Crab Champions Fine Oh sì Ti ho invitato Io amo questo gioco Cazzo Intendi il miglior gioco di sempre è Crab Champions Ma se non te c'è qualcuno che gioca tanto quanto giochiamo noi a questo gioco No palesemente nessuno nel mondo Forse questo potrebbe essere il nostro scopo nella vita Diventare gli streamer numero uno di Crab Champions Sì Lo sono già diventato Ci mancherebbe No però questo non mi piace Voglio le doppie pistole Io gioco con lo sniper oggi Così Spur da meme Andiamo Aspetta che voglio vedere Se torna di Crab Ho il povere da prendere Flamethrower è sbroccato in culo Io l'ho provato Io mi prendo Non so Dual pistol o dual shotgun Shotgun Assoluto Shotgun Prova Vedi se hai delle chiavi da usare Magari puoi sbloccare qualcosa No Vabbè andiamo Pam Pam Oh non devo sbloccarmi quel bel rapid fire Sei diventati pro god gamers al suo gioco Assolutamente sì Madonna pigarna Guarda quanti contenuti avrai da questa live Non sei felice cazzo Allora raga Uh madonna questa musica Io sai ora cosa faccio Io metto Appena finisce questo round Io metto questa musica Alzo il volume a palla Ci sta Corretto Unica cosa giusta Madonna Settings Sound Music volume A mille Uh sì 2 per 2 per Power armor Distant enemies You lie 6 shot 2 per Sì A mani basse Ma Cosa sono questi barili ora? Ah è Il Il Coso del per 2 Ogni volta che uccidi un nemico Ti lancio un barile Che ti insegue Ok 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 Yes Doppia chest Aspetta prima di aprire che poi devo Sto prendendo le ore mie La felicità di totta mi inviterò ad abbassare la live Lightning shot Oh lightning shot è nuovo Sì Fire shot Sì sì Ci sono un sacco di robe nuove Assolutamente sì Frade cristo Dai ok va bene posso abbassare la musica Ho abbassato la musica Ho abbassato la musica Lo facciamo? Speed o elemental? Elemental Facciamo speed dai Vai Io ho bisogno di un po' di rapid fire ragazzi E anche io ho bisogno di fire rail Weee Oh Brodemit Anche me no? Oh 13 di vita tra Ma? Ah nightmare di Ah ma ne stai facendo I maletà nightmare Wurt E scusa Dall'ultima volta che abbiamo giocato insieme Io ho iniziato a giocare solo in nightmare E Ho vinto anche un paio di volte Da solo Io sono anche molto felice Perché vuol dire che sono portati in culo Cazzo Allora Ora muoio Ho 13 di vita Quindi se c'è una Aerial shots Adrenaline Adrenaline Io ho preso l'adrenaline Eh io ho anche Facciamo flawless Dai però questo flawless ce ne da due Va bene Tanto io c'ho 13 di vita Quindi se mi prendo non muoio È orda è orda Corri e basta Prendi tutti i salti che puoi E Fa fa Non ci sono i salti Gira in tondo Easy Oh no c'è un teschio da qualche parte I'm running Nè ma colpito che falle Che buccio di culo che c'ha Vai Toth corri io ti proteggio Eh sì Grande Ennamu Ennamu I did it Brava brava Ennamu I did it Metal rod Random shot Arcane shots Lightning shot E random shot Shot È il momento del nostro bro Necessariamente la vita Vai vai Anche mi rubo un po' Miancata la vita Quella che rimane è tua Sì sì Fatto fatto Allora vediamo un po' Se c'è qualcosa di velocità Non c'è Vaffanculo Beh io miglio anche il bronze art Allora Vai Io mi prendo Metal rod High voltage No non posso Ora se volete Se vuoi te la posso rirollare No no tanto non ho soldi Ok Andiamo Due per velocità O due per Velocità Non direi Minchia vai Io sto messa in culato Qua velocità Siamo speed Si fanno i giretti Come in co-zombie Sì Occhio che ogni nemico Che muore Fa il peto Eh sì Sto a mezzo notare È la madonna Oh ok Ho come l'impressione Che c'è la Oh mio dio Ok Ah Madonna Lo sniper non mi fa impazzire Devo dire Ho uno Ho uno di vita Te proteggio Ti ho protegguta L'ho ben shottato Beh doppie cose Oh sì Reload speed Ho qualcosa di speed valido Power size Light shot Adrenaline Shots di home Vimagine Airborne Shard not back enemies Power increased Adrenaline E ti dirò Aerial shot Skill o luck So skill chest o luck Boh vediamo Indifferente Dai skill Che siamo fortissimi Siamo skillati Oh vieni qua Vieni qua Corri 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 Oh cazzo Non è vero Non correre Ferma Ci sono Ci sono Eh no Occhio Intanto c'è uno di vita Eh ma c'era il coso Della vita Eh vado allora È spoppiato Insieme Agli altri Oddio Oddio le lightning Hunt Ah tu c'hai il ghiaccino Sporcato Eh no Quello random Ah figata Madonna come sto facendo Con uno di vita Fra Da inizio game Anche io non sono messo Da dio Oh c'è un totemino Oh c'è un totemino No niente Mi ha dato una granata No Oh Elf chest è necessaria qua Sì decisamente Anche perché l'altra La spiked Sicuramente non la faccio Let's go Dai 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 Ce la facciamo Ce la facciamo Ah orda Ma vaffanculo Io che mi metto pure a combattere Eh Ok sono morto Mi ha ucciso Una zucca Oh no Ok sopravviverò per noi Ma hai già preso danni No Vabbè dai Ecotopolio Non penso sia in due per questo Sì Oh ho preso un danno Oh ho uno di vita No No Oh beh discreta Ma Cosa 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 Bordello che c'è stato per un attimo No Merda Eh Ok 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 Ci siamo ci siamo Sono sul pezzo Non giocherò mai più con questa roba Perché fa schifo Riprendo l'unica arma di dio E ci sono Hai preso la double shot No il lancia fiamme È assolutamente fuori di testa Eh Fammi vedere se ho per sbaglio chiavi Ma dove vedi Dove vede il muro di chiavi Ma non sei entra Ah sì Ah non lo so Non l'ho mai capito dove si vede effettivamente Non è forte il lancia fiamme Sì però il rischio di fare Cioè forse da solo è forte Perché con altri rischi di ammazzarmi ogni due secondi No no Non c'è il fuoco a me questo gioco È sicuro Adesso vieni qua dove sono io Guarda Ok Big shot Ultra shot Bouncing shot Ok Allora danger close Danger close per te è forte Lacco random La tua scelta Perché la vera fortuna è nel trovarla randomicamente La vera fortuna è averti come collega Cosa siamo È finalmente il momento di dirlo Sì come conoscenti Easy Do ci fai Andiamo un pa Light shot Heavy shot Bronze Heart Ecco Due per Due per Random Spike è facile Questa sarebbe un po' lontana Oh porca broia Ehi ragazzi ma quanto roba c'è qua Boh Morto Il sonno proprio mi ha tirato Ragazzi Mamma mia Let's go Allora scavenger Chance Venencio Di attaccazione Valido Molto valido Oh nice Small crystals bundle Fortitude Beh ovviamente Mi cresce la max self ogni volta che finisco in isola Oh bello Flawless Ma proviamoci Tanto è orda Bisogna correre in tondo E qui la festa Voi siete la portata principale Ho preso danno già Vai tu corri Io ti proteggo allora Ci provo almeno Così almeno uno di noi può farlo No Ho preso il cazzone Penso proprio di sì Le formiche sono infamissime Colpiscono sempre Vabbè Siamo dire No 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 Mi ha dato solo una cesta Sì sì Beh però siamo dire Oh sharp shot Ultra shot Bouncing shot Shop Let's go Allora qua abbiamo Vitality Che il damage è increased Quando sei a più dell'85% della tua vita No l'unico decente è questo Damage ora Che non ho abbastanza soldi per prendere La merda io manco Di pochissimo poi Eeeh vabbè Ma io prendo Vitality Me lo puoi rerollare? Vabbè Sì Allora Yes C'è un altro Vitality se puoi No no ho trovato questo Guarda cosa sparo Le pallocchie Che spari? Guarda le pallotte ogni tanto partono Ah valido Elf Yes Sì Questa cos'è Orda doppia C'è qualcosa Normale Normale Basic as fuck Ho preso comunque dei danni Perché sono Veramente Veramente Nice Oh sì Anch'io c'è quello che mi dà vita Ogni Eh Sverga Ogni fine Rhyme Non facciamo il 2x Perché è 1 hit Non mi piace Ha un aloro sto gioco Sei un granchio E fai più 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 E che vuoi fare 2x o economy? No 2x e 1 hit Se vuoi giocartela su quello è figo Però No Econo No Ho visto male Allora sto gioco è bellissimo Allora deve essere troppo bella Allora è più 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 Che bello sto gioco comunque Chiunque l'abbia creato è mio amico Ma noi come l'abbiamo trovato esattamente questo gioco? Ce l'ho in wishlist da quando avevo visto La roba E poi tu un giorno l'avevi ritrovato E io ho detto Oh mio dio sì Succede spesso comunque Sì Allora Amai 582 cristall'ora Oppure Paycheck Che dopo ogni isola Mi dà dei cristalli Paycheck è sbroccato Se non mi ricordo male Più di 600 cristalli Sì dai Flawless Ci riproviamo Tanto non l'ho mai fatto Siamo sfigati Guarda Little Hamster Purtroppo per lo stato italiano Non puoi fare più 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 Oddio 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 Ah ma perché Va vedi Oggi non sono molto attenta Io mi sono messa subito a lottare contro di loro No ho preso un danno Ce l'avevo fatta fino adesso Ah è Ti eri dimenticata che fosse orda Sì ma stasera sono stanca E' stanca Sì Vogliate tutti bene a totta che è stanca ed è in live per voi Ecco Sì Vorrei andare a giocare a Marvel Spider-Man Miles Morales Miles Morales L'ho scaricato È arrivato? È pronto? È carico? Sì per la play sul mio grandissimo televisore Non avete capito che bello che è giocare alla play su un televisore così grande Non l'ho mai fatta in tutta la mia vita Ok che fan È bellissimo Ho Rapid Fire Anche io ho preso Rapid Fire Amo noi Io e te Aspetta Qua tanto Io mi prendo una barretta Torno Cioè torno Mi vedete tanto Sono in cucina Tutto bene Totota sta parlando solo Tutto 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 Non prendi Spider-Man 2 No ma perché ho fatto l'acquisizione del game plus Del playstation plus Che con 10 euro al mese hai tutti i giochi dentro È molto bello È tipo il game plus Sì però ci sono un sacco di giochi belli Cioè c'è tutto Tutti i giochi che io ho amato nella mia vita E molti che non ho mai potuto giocare Di cui ho potuto vedere solo i gameplay dagli altri Perché cioè a botte di 80 euro a gioco Bella ciaone 60-70 Quindi ci sono tipo tutti gli Assassin's Creed Tutti i Far Cry Bello Tutti i Spider-Man Merita merita Tutti i Dishonored Io amo Dishonored Io amo Dishonored Ho giocato solo il 2 però Bellissimo E niente questo Ehm The rest of us C'è Life is strange Un botto Sì c'è fatti venire in mente un gioco Resident Evil 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 Within Un botto di roba c'è E costa solo 10 euro al mese Cioè non è il tanto che ti pensi No non tanto Io voglio Mace O Mace Shot O Targeting Shot Tu cosa prendi di bello? Mmm Ah vediamo Eh Ti va togato Io mi prenderei anche io il Mace Shot Vai io prendo il Targeting E li rollo? Se vuoi Oh merda Tutti i Blue È un Rapid Fire Prendilo se vuoi Mi sa che mi prendo un bel Silver Art Ok io prendo il Rapid Se vuoi c'è Un po' di vita da prendere Mmm Yoink Andiamo Boss Primo Boss Boss delle Tortie Ma sei ancora in Night Nightmare Sì sì Ma sto parco Stiamo facendo il culo a sto game Manco ho preso un danno Manco io Siamo stati sbroccherimi Non vedo l'ora che facciano i mondiali di questi giochi In modo da partecipare ai rivals di Crabb Champions Mica Rival di Crabb Champions saremo troppo forti Stai aggressivamente mangiando una barretta vero Scusami Scusami Vai Questo lo finiamo Questo lo finiamo oggi Te lo dico Arriviamo alla fine Alla fine del granchio Ah tu madre che fai I pipo pipo Dove va? I pipo pipo No ho capito I pipo pipo po Una nobile art Minchia Ciao tutti con te ce l'hanno Ti vorrei aiutare Però Bonk Ciao Mal A domani Ciao Mal A mai più Domani Pamela party Minchia godo Da un botto di gente Almeno due Almeno due Sì è vero Quindi mi raccomando Sia 10 domani Per il Meliopartelio Critical E qua Al centro lì Alla fine farete la pull reaction al college Abbiamo scelto che se arriviamo a 500 sub Facciamo la pull reaction al college Critical economy Critical Oh ok Abbiamo entrambi premuto economy vero? No Allora non so chi sia venuto fuori Oh sono stata graziata No non farti glassare Ehi Bert A proposito di glassare E vabbè tutti questi Questi scheletrini che volano Nei guandi maleducati Sono un ghiassio No essere il ghiassio Chi è che manca? Minchia l'ultimo zombie però Sì infatti Ma? Ma? Ha diventato un deathmatch Cioè dovremmo uccidere tutti Con te tutti Devo uccidere Prova? Che cazzo? Sai che si è buggato uno Dei granchietti Da qualche parte Oh no Dobbiamo trovare Il granchietto Bughetto È diventato un Potessi donerai per un po' di Grinchio collettivo Ma? L'hai trovato tu? No È esploso Soldini Mr. Combo Money shot Oh money shot De Cristo Money shot Skill o damage Quello che preferisci Damage Damage Sì ci sta Namo Bebe Madonna Sono grossi questi Minchia Gli ho tirato Una granata Non hanno letteralmente Clinciato Bro Di un clinch Oddio Prego Grazie I saved Your ass Oh my god So rude So rude Dove vedere meglio Che stai scegliendo Ti do una mano Danger close Uh bello Elf o spiked Elf Flawless Cioè faremo Uno Orda Flawless Yes Orda Flawless Parti dal mindset Oddio Che culo No Mi hanno Mi hanno Glassiato Vai Totta Almeno tu Amo Mi sono Ascosti in angolino Non mi potrà Prendere nessuno Hanno Proceduto A prenderti No Hanno Proceduto A prenderla Sono caduta Di su Oh no è successa Una cosa stranissima Alla Sono caduta Di sotto Sono Ho perso salute Perché sono caduta Di sotto Ah Mau Noi Oh my god Like so good Uh uno viola Grim ripper Bello Che bello Minchia Che buffo Di culo Che c'hai Eh lo so Grazie Bellissimo Curetto Silverheart Se lo vuoi Fireshot Tonis Blackheart Layer Grenade Juist Oh Juist Spacca I culo Juist Spacca Prendilo Prendilo Se lo vuoi Io mi prendo Fireshot E Non riesce a rinforzare Non riesce a rinforzare Yeah Oh grim ripper god Non guardo neanche le altre Oh my god Oh my god Like so good Oh my god Oh merda La salute Facciamo un shrub null C'è due per speed Con il shrub null E un normale elemental Questa si sono i shrub null Shrub null Shrub null Shrub null Shrub null Shrub null Shrub nella grave Mano anche così tanto Ah è Facciamo una shrub null Oh mio Dio, è così buono Oh mio Dio Io sparo nella folla Che detto così Oh, slagone Il meglio raduno del bende di polvo Slagone No No Ho fatto un parkour che non devo fare Forbidden parkour Dalio Forbidden Forbidden Yes, doppio Rapid fire, adrenaline Papiro Ah, giusto No, vabbè, mi è uscito ora giusto Sto male Godissimo Io ho beccato due fire rate Adesso sparò velocissimo Damage o skill Skill Skill? Sì, faccia Così, andavo Wow Oh my god Like, so good Ah C'è una concentrazione Comunque Madonna Sì Siamo veramente su da terre Ok Nice Vediamo un po' cosa c'è in questa skill chest Grip tape Reload dark Big Mac Reload dark Blue G Big Mac Economia damage Vuoi fare damage ora? Ma sì, dai Io ho 23 divita Ah, dai, ho guardato bomba Corelli in giro E' la mal Sbagliato Sprecato Eh, niente Sono Mi hanno Azzuffato Io ho ricevuto Sono morto Sei morta Archiatroia È perché qua è chiuso Qua mi è chiuso Sono morto Mi hanno bloccato Notevole Io sono Uguale Ah no Non ti far paninare di nuovo Bertra Bertra Togliti il prima possibile Purtroppo sono stata paninata E sono morta così Non mi perca caso Tota è viva Lunga vita Tota Vedi se qui Aspetta Questo mi sa che è per te anche Sì, vieni qua Ah no No, questo ti fa perdere vita No, non ti fa perdere vita Non ti conviene troppo E questo qua invece? Questo è gamble Ok, io che continuano ad aumentare Eh no Ma tanto non ho vinto So smettere L'ho fatto una volta e basta Oh, questo Oddio Questa qua Quanta vita hai massima tu? Eh, 850 Ok, io 300 Allora ne approfitto Ok, luce Posso? Prendere la salute? Allora, cosa abbiamo? Damage shot che è ottimo Grim Reaper Guccione Danger close Speed demon Sharp shot Io mi accollerei Un Grim Reaper Eh, Grim Reaper non mi fa schifo Prendilo, prendilo Posso? Sì, sì Mi prendo questo Mi prendo questo Un grid Timebolt Sparkshot Cazzo non ho soldi Per questi Sarebbero buoni C'è questo block Incoming damage Eh, bello Ma non c'è sort Timebolt Eh, io mi sembra Prendo questo bel Silverheart Eh, beata te Me lo puoi rerollare Che quelli blue Posso prenderli Eh, no Ho solo 94 sull'euro Ma Unlucky Ah, però Noo Fanculo Perché costano così tanto Ora Niente Vabbè Andiamo C'è un boss No, è scontati Ecco perché Ah, dovevi rerollarlo tu Mannaggione Oh no, è un teschio Madonna Next bioma Bebe E' un bronze art validissimo Not there you can't Wow, non so che dire di noi Wow, non so che dire di noi Facciamo cagare Sì, è veramente problematica questa cosa Cioè non li stiamo facendo neanche avvicinare Fra Vabbè abbiamo finito Abbiamo compiuto il gioco Siamo noi che ci avviciniamo a loro Da tanto siamo vunti Assolutamente surclassata Questa pera Questa Questa game Sporaci Manco hanno iniziato Trickshot Eagle Eye Uppercut Uppercut Vuoi damage o parkour? Ho messo già damage Per sbaglio Scusami Ci sta Il parkour Fa cagare Sì Dove viene Vedi Oh cazzo Oh cazzo Scoppiano Ma l'onnet si minano Che che manco Donna Madonna Quanto ti bruci i neuroni Questa cosa È veramente assurdo Bellissimo Il miglior modo di essere Stupido Elementalo skill Elementalo skill Elementalo skill Vai Proviamo skill Vediamo Vai Oh perca troia Sono di nella lava Che stupida Questo che dovete mandare Da nessuna parte È la trappola Elettrica Io non capisco più Qual è il tuo fuoco E quello dei cattivi Ah sì Quello è un po' Un problema Il migliorire escola Ducer proviamo il flawless di nuovo secondo me no però vabbè fa ridere non mi vengono proprio madonna so per cascare nella lava dritto per dritto proprio signori ce l'ho fatta allora snatcher chaotic shot fire shot level 3 oh my god like so good no mi ho fatto un botto di cristalli e fanculo tanto ora se lo shop quanti ne hai? 9500 la madonna vieni qua vieni qua dove sono io purette allora rerollerei io qua direi perchè? aspetta devo far vedere uh bubble è carinissimo performance bonus shotgun blast spark explosion belli che sono le bubble blast è bellissimo io lo prendo per il memo performance bonus no guarda che carine le bolle vai aspetta we shotgun blast non è che mi fanno un bazzì queste reroll purtroppo devi farlo tu perchè tu hai il ah minchia solo uh i dagger di nuovo bello po' puoi rerollare o non è più posso rerollare si oh si uno blu uh aurashot posso prenderlo up the end Mace shot Non lo so Io metto damage increased after clearing each island Ci stai mi piglio E ho finito, ora ho 151 di sblewe Anch'io, anch'io Due per casual, no one hit col cazzo Damage chest Mamma mia Micco è il gioco più bello del mondo Ecco cos'è My man has got no money He's got a strong belief My lover's got no power He's got a strong belief And more and more People just run more and more Free from desire Bertra, fai dell'altra musica nelle orecchie Io lo capisco Però noi no No, no, dell'altra musica Sto cantando assolutamente con la musica di Krab Champion sotto Non andava minimamente a tempo No, no, zero Era proprio una roba mia Ho guardato che prendermi danni dal fuoco Perché non capisco qual è il tuo fuoco E qual è quello che mi fa male E forse questo è l'amore Mi tieni qua dove sono io Invece di dire cappellati Yeah Damage combo, chaotic granite Oh, sharp shot Ma dove cazzo è la mia? C'è la Churp, è questa L'hai già preso? Churp nel E te lo giuro Guarda è aperta Ma io non ho preso Ma che cazzo Hai rotto il gioco No Churp nel Per forza Churp nel Churp nel Forse sono veramente fusa stasera Cioè perché Arrivano tutti dall'altra Ah sì Nell'altra sconda Wow tot No, nulla da dire Se non Ma Oddio quanti Churp nel Ci sono Oddio quanti Oddio Me ne vado No No Ah Ah Oh Oh Tu dove sei in tutto ciò? Sto Chilando Se posso Dietro di te Non ho visto Senti fanculo Io vado Valal Arrivo Yeah Siamo oggettivamente forti Prego Grazie Grazie Non so per cosa Grazie Che mi sono sacrificata Su glise Oh Critical arrow Mega creator Powerpoint Mega creator Oh my god I'm like So critical Oh my god I'm like So critical Oh my god Shotshooter Che cosa hai tu? Facciamo lo damage Quanto la vita ne abbiamo Oh ma è orda Merda Occhio che è orda Corro Oh cos'era Per rumore Ponk C'era un totem Vabbè che in realtà Questa Questa isola Come dobbiamo farla Perfetta Eh ma tanto Non c'è il 2x No è vero Per me ormai orda Significa solo Corri e fai i punti massimi Oddio Non c'è andare a perdere Un briciole di vita Perché sennò Sei una fallita Wow Ma va Manta gente c'è Mi sono ricordata Ora che più danni faccio Più soldi prendo Ah tu c'hai quella roba lì Infatti ho di nuovo 9600 Il Mao Bouncing shots Steady shot Oh my god Ultra shot Ultra shot Fortitude Layered grenade All you can eat Bello Critical blast Silver heart Io vorrei layer grenade Vai io non voglio niente di questo Gold heart Non ne vale assolutamente la pena No 11.000 Questa però Fan cagare tutti Posso dire Hai soldi da cambiare Sì Vuoi che rirollo Sì grazie Boss finale Boss finale Ignorerò l'ultima volta Tanto non ci sono più soldi da spendere Ed esce una cosa che posso acquisire Gamecrystal zone healing Bellissimo Volevo solo tanto sprecare i miei soldi Quindi Andiamo Siete diventati troppo forti Oggettivamente non falso Eh la madonna Quanto scudo c'ha sta Mignotona Eh la madonna Non è vero Fa schifo anche lei Io pronta a farlo senza prendermi un danno Oh merda A meno di corti d'ora Eh anche a me è mandato un colpo Beh è stato Facile Chavi Chavi Exploding enemies Mortar turret Dagger dash Regenerating armor Exploding enemies Armor plating E via È stato abbastanza facile Io credo fai il turret Eh tanto adesso Crabai lancere per il victory Sono esattamente le 23 Siamo bravissimi Madonna Sburti Aspetta però è il momento Io la prima volta che lo finisco È a livello nightmare Vai Sì Colleziona la tua victory crown Infatti ho sbloccato un po' di skin Eh anch'io tre Ah io ce l'ho due Silver e glimmer Sia As Dispense keys unlock new loot permanently Uh ho sbloccato anche il lanciafiamma Hai veramente sbloccato in culo Pensa prossimo game con due lanciafiamma Non oggi in futuro Ovviamente In futuro Sì sì No ora ce l'andiamo a fare in culo Glimmer Uh Maciotto fracico glimmer Fra Silver Anche Get a win with the dual shotguns Or nightmare difficulty Ce l'hai silver tu Guarda Silver Eh no perché Eh ma non siamo più in lobby insieme Non so perché Ah Peccato ti volevo far vedere il mio silver crabs Silver clubs Eh glimmer mi Mi stuzzica ti devo dire Io ho il red Fa Red qualcosa Che è Carino Vabbè siamo Eh aspetta vediamo come si chiama Quello che ora è In fondo cazzo Red tiger Che vinci con il lanciafiamma E una nightmare Eh figo eh Però il glimmer è molto più bello Oggettivamente Eh il glimmer è bellissimo Io invece ho il silver Guarda vedi il silver Dov'è che è il silver? Eh A fianco al tiger Dual shotguns atene di figo Il tivolo verde Ehm Ah eccolo qua Bellissimo silver Ma anche Minchia emerald è stupendo Vabbè Diglielo allora Se ti piace Madonna Vabbè sono molto felice Che gioie che mi regala questo gioco Che gioie Comunque ragazzi Che enorme gioie Ehm Ehm Noi ci rivediamo domani Con La live Di Pammel Party C'è un sacco di gente Quindi passateci a attolare Sempre dalle 20 Alle 23 Vi ricordo che 500 sub Sul canale Dovremmo mettere un bel Bannerino Comunque lo ricorda Facciamo la reaction al collegio Però vabbè Poi Ve ne parliamo bene Domani tornerò con un bel bannerino Punto escanativo sito Oppure amichetti.com Per vedere il nostro nuovo sito E Vi mandiamo Un grande Antibaci Un grande Un grande